Ciao, sono Alessio Menconi, benvenuto nel mio sito e voglio presentarti Jazz Guitar Studio, il nuovo abbonamento che ti permette di studiare online ma nello stesso tempo a contatto con l'insegnante. Ti preannuncio intanto che tu hai a disposizione un free trial di due settimane, quindi tu ti iscrivi e poi dopo due settimane potrai decidere se vorrai continuare oppure no. Se non vorrai continuare non dovrai pagare nulla. Jazz Guitar Studio è un abbonamento diviso in quattro livelli, da starter ad advanced. Starter vuol dire colui che parte davvero da zero e vuole cominciare ad apprendere le prime nozioni della chitarra jazz. Successivamente beginner, intermediate fino ad advanced per colui che vuole entrare nel mondo del professionismo e fare davvero l'ultimo salto possibile per suonare dal vivo qualsiasi tipo di brano a qualsiasi livello. Tu potrai seguire il livello che preferisci ma ovviamente ci sono io che ti consiglierò in base ai video che mi manderai quale livello seguire. 250 video, pdf con tablature e pentagram, basi, metronomo, tutto perfettamente ordinato nel sito e nella tua pagina personale dove potrai spuntare gli esercizi fatti e lasciare liberi quelli che dovrai fare. Quindi non potrai mai sbagliare e avrai un percorso e una routine ben stabilita che ti permetterà di studiare al meglio e di ottimizzare il tempo. Tutti lavoriamo, tutti abbiamo una famiglia. Per questo ho costruito una routine apposta per coloro che vogliono ottimizzare con poco tempo lo studio della chitarra jazz. Si tratta infatti di esercizi mirati e assolutamente pratici senza dover perdere tempo con nozioni che poi non ci serviranno praticamente a nulla. Oltre a tutto questo materiale hai a disposizione una lezione in streaming che farò tutti i mesi e potrai anche reagire con me, quindi tantissime novità ogni mese. Potrai poi entrare nella community su Discord, una community dove sono già iscritti centinaia di chitarristi, di allievi, dedicata completamente a voi abbonati dove potrete incontrarvi, parlare, scambiarvi gli esercizi ed è una cosa completamente nostra. La cosa molto importante che ti segnalo è che tu hai la possibilità di mandarmi un video con gli esercizi che sono da me indicati nel percorso che troverai nell'abbonamento e io dopo aver visto questo video ti manderò un mio feedback dove ti dirò quali sono le mie impressioni e quindi ti indicherò quali esercizi continuare a fare, quali sono eventualmente le cose da migliorare. In questo modo hai l'opportunità di studiare comodamente a casa tua ma avrai anche un feedback dell'insegnante. Non perdere più tempo, non saltare da un video all'altro su YouTube ma entra nella nostra community su Jazz Guitar Studio. Prova per due settimane, dopodiché se vorrai continuare sarai benvenuto.